Imam, Musa è morto in solitudine? È molto solo? No, solo, ma speriamo che non sia solo, siamo tutti con lui, siamo tutti e noi luttiamo per quella dignità che lui ha voluto, quella bella vita che lui ha voluto. Andiamo avanti, almeno ha lasciato qualcosa che vediamo, che viviamo, ha potuto gruppare tutta questa comunità, tutte queste persone, tutte queste associazioni, tutta la città e sono in gruppo per portare avanti il suo sogno. Se lui non ha vissuto questo sogno, inshallah, quello che verranno dopo, lo vivono inshallah. Grazie tanto. Grazie.